I colori, i miei colori, escono dalle mie vene, sono lisci come la cifilide e vanno, vanno dentro gli occhi della gente. Sei già stato in chiesa? Questa mattina. Allora hai già visto l'affresco? Sì, perché? Avrei preferito l'avessi visto con me. Non devi parlarne assolutamente con nessuno. Credo di aver scoperto la storia più allucinante che si possa immaginare. Ecco perché ho fatto in modo che chiamassero te. Solo un grande artista può dare un senso così... così vero alla morte. No, no, no! Se vuoi cominciare a capirci qualcosa devo portarti in un posto. C'è una casa dalle finestre che ritono. Non mi rompete i caglioni! Lo sapete che sia io parlo? Lo sapete che sia io voglio? Lo sapete che io no? Le sorelle erano da una mutare Si accopiavano come cagni in calore Credo di avere scoperto tutto, qualcosa di orribile Nella tua stanza, presto Tu lo sai come lo chiamavano qua negli anni? Pittore di agonie Le sorelle avevano cominciato con lui un rapporto Che una volta incominciato non si fa mica più finire Non si deve andare contro la natura Va bene, maresciallo Pensa un po' quando hanno cominciato a scarseggiare i morti Ma cosa credi che vado in chiesa e vedo un quadro? Mi spavento soltanto perché vedo un quadro in chiesa Oggi ha ritratto quella sgualderina mentre crepava Ma se io sono ancora vivo e Coppola è vivo Dio buono Perché a Coppola non devo mettere in culo nessuno, hai capito? Ho molta paura, sai? Anch'io Ma per me è diverso Io quando voglio posso andarmene di qua Ma per me è diverso Io quando voglio posso andarmene di qua